L'ex ospedale Vittorio Emanuele, nell'occhio del ciclone, per sapere come si concluderà il tiro alla fune tra Comune di Caltanissetta e DASP e per sapere quale sarà la destinazione d'uso della struttura, bisognerà attendere ancora qualche tempo. Infatti, se da un lato, solo pochi giorni fa, tramite la sua pagina social, il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino ha dichiarato che il Vittorio Emanuele dovrà essere la sede del corso di laurea di medicina e chirurgia perché la storia e la struttura lo impone, ha inoltre puntualizzato che proprio per questo motivo venerdì scorso è stato notificato il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. Ad essere impugnato è stato il provvedimento del direttore generale dell'ASP che dava seguito ad una delibera dell'ex governo regionale che stabiliva di spostare gli uffici dell'azienda sanitaria in via alla regina Margherita per spending review. Sulla questione, il direttore generale Alessandro Caltagirone replica che gli ospedali dell'ASP Vittorio Emanuele Dubini, entrambi a Caltanissetta, saranno riqualificati e sfruttati al meglio per esigenze della comunità. E puntualizza. Abbiamo ricevuto due finanziamenti della giunta regionale per un totale di quasi 14 milioni di euro che ci consentiranno di rendere pienamente fruibili e per diverse esigenze queste strutture di proprietà dell'azienda sanitaria provinciale. Il finanziamento ottenuto è indispensabile per riqualificare integralmente le due strutture in atto parzialmente utilizzate. Rispetto al ricorso presentato, tengo a precisare, continua, che le scelte che come ASP di Caltanissetta stiamo portando avanti sulla destinazione degli immobili terranno conto delle rinnovate esigenze anche per gli aspetti didattici. Esigenze che, siamo consapevoli, dice, sono mutate nel tempo e proprio per tale ragione saranno rimodulate per assicurare i servizi necessari, specie sul fronte universitario, nell'ambito sanitario. L'ASP di Caltanissetta, precisa inoltre, fa parte del consorzio universitario e siamo noi, dice, i primi a volerlo tutelare. E poi conclude, abbiamo tutto l'interesse affinché gli studenti possano godere del giusto spazio in linea con le norme vigenti e assicuriamo che saranno loro garantiti i locali adeguati per soddisfare tutte le esigenze formative. Grazie.